E' un giocchetto sessuale. In realtà non l'avete ancora venduta. Dobbiamo venderla per pagare quella che abbiamo appena comprato. Devono passare 30 giorni. Se tutto andrà bene, la vendita sarà conclusa. Ma che cavolo succede lì? Ciao, siamo i vostri vicini. Benvenuti alla Knew. È un ristorante greco? Ah, è la nostra sorellanza. Non ci credo che una sorellanza sia trasferita qui. Ora che facciamo? Non ti preoccupare. Le ragazze fanno poco casino. Trova! Non si fanno di droghe pesanti. E sono più intelligenti. Dove sono? Oh no, l'ho ammazzata. Sono so tanti dollari, invece è stronzo. Knew! I nuovi proprietari non vorranno vivere accanto a una sorellanza. Ci serve un imbecille che sappia trattare con gli imbecilli. Ciao, vicini. Diamo un taglio a questa stronzata. Bel travestimento. Tu fai lo psicopatico. Ma come sono un clown? Tutti adorano i clown. No, ma cos'è da psicopatico? Smettila, adesso. Vogliono demolire la nostra sorellanza. I bambini si comportano male e si chiamano i loro genitori. Papà! Questo cos'è? Bambina mia, che succede? Non è un grosso problema. Questo a me sembra grosso abbastanza. Queste ragazze sono sveglie. Ti va? Una birra? E sono anche furbe. No, fermo, non berla! Sono stato drogato, quindi se qualcuno vuole fare sesso con me, è la sera giusta. E' un po' difficile chiamare la polizia senza telefono. Lascialo subito! No! Ma che? Si chiama Filo, testa di pigna! Maledetti telefoni antichi! Quelle ragazze sono fuori controllo. Lasciami stare! Usano la loro sessualità come un'arma. Toccano! Galline, andate via! Non funziona, così diventano solo più sexy! E due i muscoli mi stanno eccitando da morire. Dammi una C! C! Dammi una U! Dammi un L! L! Dammi un O! O! Ora dammelo! Scordatelo! Smettetela! Smettetela! Beh, io continuo a parlarvi di commedie, perché questa è un'ottima annata, soprattutto ricca in sequel di film che ci hanno già fatto ridere e divertire tantissimo in passato. Nel 2016 quindi usciranno. Il mio grosso grasso matrimonio greco 2, il sequel della commedia del 2002, un successo da 350 milioni di dollari nel mondo. Stavolta al centro ci sarà un altro matrimonio, ancora più grasso del precedente, ma anche un segreto della famiglia Portokalos che verrà alla luce. Vedremo anche il ritorno dei cattivi vicini, con Seth Rogen, Zac Efron, Chloe Grace Moritz, Rose Byron e Dave Franco. Questa volta ci sarà una nuova battaglia tra i vicini, con protagonista e le ragazze di un'associazione studentesca femminile. storica nemica della congregazione. Tornano anche Kevin Hart e Ice Cube, la coppia di Ride Along, in un poliziotto ancora in prova. Questa volta Ben e James riuniscono il team per acciuffare un trafficante di droga. Non tutto però fila liscio, ovviamente. Nel 2016 vedremo anche il ritorno della banda criminale col più alto tasso di cultura di tutti i tempi, in Smetto quando voglio 2, di Sidney Sibiglia. Niente, nessun particolare per ora sulla trama, ma già si parla di trilogia. E infine, dopo 15 anni dal primo film, torna Bridget Jones, che questa volta ne combina una grossa, sempre che diventa mamma, in Bridget Jones Baby. René Zellweger sarà accompagnata da Patrick Dempsey e Colin Firth, ma di chi sarà il figlio, lo scopriremo solo a settembre. Per oggi è tutto. Troverete altri dettagli sulle uscite, ad esempio, dei film nella descrizione. Fatemi sapere quali film avete già visto, quali pensate di andare a vedere e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao. 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 Grazie a tutti.